Ciao La messa che stanno trovando si ha quel... Uh, che bel fresco Ah no, lui non diceva questi Intendeva quello Come al solito i cani abbagliano contro di lui Perché io li odio, li odio profondamente Ciao Stiamo facendo il sentivo geologico Lei ha scoperto lo schermino reclinabile che è una cosa stra comoda Ma cosa ho scoperto? Però non stai applicando le migliori dei modi E stiamo salendo di brutto Adesso sto per morire Mi ci sono tappate le orecchie Adesso apro un po' lei la pista Vai Ok Topolina Siamo per pulire Però Potrebbe magari... Aspetta Arriviamo Sì È già partito però Sì Siamo arrivati sulla strada principale di Borgio Berezzi Che si legge lì Questa si va al teatrale però, va bene? Dip Sì processo Allora Molto Sì Ma Ch crescere Ah è tutto sudato